Buongiorno followers, mi trovo qui all'aeroporto di Venezia Sto per partire, devo consegnare questi due pacchi Il cui contenuto a me è ignoto Cerca il punto più alto della città E da lì ti sarà chiaro dove dovrai portare i pacchi Mi hanno riconosciuto È incredibile perché la Chiara Ferragni non la riconoscono in giro C'è biondina, carina, come tutti no? Però la mia voce, il mio accento, mi riconosce subito Ho trovato il punto più alto della città È questo, Burj Khalifa, il grazzacielo più alto del mondo Io devo andare lassù e lì capirò dove devo consegnare i pacchi Ma certo, è lì che dobbiamo portare i pacchi L'esposizione universale Siamo diretti verso Expo Cinque anni fa, non so se ricordate ma Expo Milan 2015 Sono in muso, non sono resta male Perché il Veneto non ha un capannone intero Il Veneto non ha un capannone intero? No Cinque anni dopo, anzi sei anni Grazie al Covid hanno avuto anche più tempo Hanno sicuramente provveduto a risolvere il problema Adesso cerchiamo qua sulla mappa il capannone intero No, 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 non è Veneto questo C'è? Non c'è? Sarà vicino a quello dell'Italia Da quello ora? Beh, che non ho detto che è parecchio Sei italiano? No, no, non parlo sudano Sudà? Si Si suda con la maglietta? No, è del sudano È del sudano Ma quand'è che li apriamo? Dove? Quando? Adesso No open Questi tempi col Covid Ci hanno messo uno qua Fanno anche la regia C'è scritto Zoom su no open Allora La nuova collezione di Veneto Doc Hanno messo insieme tutte le aziende della zona E mi hanno chiesto di presentarla a Expo Al mondo Ryan, famiglia Wow Adesso basta Expo Perché fra poco ritorno a casa E vorrei vedere anche un po' la città E farvi vedere un po' di Dubai Qua ci sarebbe da raccontare Veramente il mondo proprio Per carità Magari ritorno qua Se c'è uno sponsor Che vuole lasciarmi qua tre mesi Vi racconto ogni giorno Un padiglione Me lo studio Per il momento Andiamo a berci un cocktail Eccolo Di fronte alla ruota panoramica Più grande del mondo Che guarda caso Verrà inaugurata stasera Allora stiamo facendo un giro Con l'exclusive yacht Ok Che è praticamente questo qua Sì Abbiamo prenotato questo noi Non siamo su questo qua Sì che siamo su questo 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 Non è questo Non è questo Monager Questo qua È tipo È tipo quello là Quello Tipo questo anche Ma no Guarda nel colore Cos'è blu Non c'è una domanda per te Lui sta facendo le visite guidate Ci fa vedere che qua Ci sono quelli ricchi Sì Ma secondo te nel frattempo Lì c'è uno che fa la visita guidata E fa vedere ai ricchi Che qua Da lui che è nei polegrami Prima di tornare a casa Però non potevo non fare una cena Con un po' di follower Che mi seguono da qua Da Dubai E poi sorteggiamo Un fortunatissimo Che avrà l'imperdibile occasione Di avere il mio vino Stiamo rientrando a casa Ma prima No devi fare ma prima insieme Vai Ma prima Eh no Insieme però Ma prima Prima io Insieme E dopo te Insieme Ma Ma prima Un momento Ok 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 La calamita del canale La calamita del canale La calamita del canale La calamita del canale Una Ah ok Ripetle Tre volte La calamita del canale La calamita del canale La calamita del canale No perché tu parti Ma io è il primo Il primo è sbagliato Il primo Faté porte un po' a Il primo è tale Non si c'entra La calamita del canale La calamita del canale La calamita del canale Una calamita del canale Ok 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 Buong Ak Ok Sì, sì, è molto bello